Grazie Chiara, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Anzitutto volevo chiedervi scusa io per il mio di ritardo che non è dovuto ai ritardi dei treni, ci sta raggiungendo anche il Presidente del Partito Bonaccini, ma è dovuto al fatto che abbiamo appena firmato insieme alle altre forze politiche e sociali, a tante personalità e sindacati, il quesito in Cassazione per il referendum sull'autonomia differenziata. Quindi è una prima buona notizia di questa giornata. È il quesito abrogativo di una autonomia differenziata fatta senza metterci un euro, fatta spaccando ulteriormente un Paese che ha bisogno invece di essere ricucito. Ma ci arrivo dopo, durante la relazione ci tornerò, ma prima vorrei condividere con voi alcune considerazioni di carattere generale. Credo che le giornate che stiamo vivendo abbiano reso ancora più evidente quello che sappiamo da tempo, cioè il venir meno, l'assottigliarsi di quella tradizionale barriera tra la politica nazionale e la politica internazionale. L'interdipendenza tra quanto avviene nel nostro coltile di casa, nei nostri comuni, sui territori, in questo Paese, è quello che avviene in una dimensione molto più grande, che va oltre ogni confine. Quest'anno poi è stato definito, lo sapete, l'anno più significativo dal punto di vista elettorale della storia per la quantità di Paesi che sono contemporaneamente chiamati alle urne. E questo ci impone, credo, uno sguardo ancora più largo, ancora più lungo, ancora più curioso a quello che avviene attorno a noi. Assistiamo a molti passaggi delicati che coinvolgono tra sorprese, confermi, anche preoccupazioni, angosce, punti interrogativi, i principali attori globali. Pensiamo agli Stati Uniti, dove quattro anni dopo si ripropongono i timori per i rischi che Trump e il trumpismo portano con sé, rendendo le prossime elezioni presidenziali potenzialmente destabilizzanti e quindi ancora più fondamentale una vittoria dei democratici. Il modello democratico stesso in tutto il mondo sembra avere di fronte non solo minacce esterne, ma anche dall'interno, quei germi dell'onda nera, nazionalista, xenofoba e anche oscurantista che cercano di avvelenare i pilastri dall'interno, cercano con una graduale erosione dei diritti e anche degli istituti democratici, come quella che abbiamo visto, peraltro, anche in Europa e in alcuni Paesi europei. Penso proprio all'Ungheria di Orban. In questa cornice non può che preoccupare l'inquietante ascesa dell'estrema destra dell'AfD in Germania, ma pure in Austria o il risultato di Le Pen in Francia. Il nazionalismo soffia ancora forte in Europa come se non avessimo imparato nella nostra storia che il nazionalismo in questo continente porta solo una cosa, le guerre e l'egoismo nazionale che impedisce la solidarietà europea che ci serve. Voglio fare un grande in bocca al lupo insieme a voi, alle compagne e i compagni del nuovo fronte popolare e in particolare ai nostri partner del Partito Socialista di Olivier For e a Place Public di Raphael Glucksmann. In bocca al lupo per domenica! La decisione del fronte popolare e dei liberali d'area macroniana di praticare in più di 200 collegi la desistenza nel secondo turno per fermare l'estrema destra è un fatto straordinario che indica consapevolezza e senso di responsabilità di fronte al Paese e alla storia. Allo stesso tempo in questo quadro internazionale di grandi mutamenti e di grandi turbamenti non mancano segnali positivi, segnali incoraggianti che ci raccontano spazi di nuovo protagonismo per le forze progressiste. In Gran Bretagna, dove i conservatori hanno governato ininterrottamente per 14 anni, si è aperto da oggi un ciclo nuovo con la netta affermazione dei laburisti a Keir Starmer e a tutto il Labour, partito con il quale il PD ha uno storico legame di amicizia e di cooperazione, un abbraccio per lo straordinario successo e un augurio di buon lavoro. E lasciatemelo dire con umiltà ma anche con grande soddisfazione, vorrei inserire tra i segnali in controtendenza, pur in un quadro europeo in cui la destra avanza, tra i segnali di speranza ci metto il nostro doppio successo. Il dato importante del 24,1% con 5,6 milioni di voti per il PD alle elezioni europee e la vittoria alle amministrative che hanno aperto una fase nuove che indicano che siamo insieme sulla strada giusta. Siamo una forza viva, radicata con valori e programmi, energie e una classe dirigente diffusa. Eppure non dobbiamo dimenticare che si è allargata la ferita alla democrazia rappresentata dall'astensionismo. Quasi la metà, anzi più della metà per la prima volta nelle europee, delle persone non hanno partecipato al voto. E questo deve interrogare nel profondo tutte le forze politiche, tutte le istituzioni. E a tutti e tutti voi io chiedo di avere in testa questo dato come un chiodo fisso, di non fermarci quindi, di non smettere di attraversare i territori, di stare tra la gente, di chiedere a tutti i nostri militanti e dirigenti di arrivare là dove si è persa la speranza e si pensa che il voto non faccia più una differenza. Annuncio che intendiamo metterci a studiare e avviare insieme a voi un viaggio attraverso i luoghi del non voto. Dobbiamo andare noi incontro a chi ha smesso di crederci, non aspettarci che accada il contrario. Per questo con tutti i componenti della Segreteria nazionale ci impegniamo ad andare nei comuni dove la partecipazione è stata più bassa, ad andarci con l'umiltà di chi vuole capire perché e provare a raccontare un però. Se non ci occupiamo di politica la politica si occuperà comunque di noi e le scelte che altri prenderanno ricadranno comunque sulle nostre vite. Dicevo che quella che abbiamo ottenuto è una vittoria importante per il campo progressista. Abbiamo dimostrato quello che diciamo da tempo, che uniti si vince. Abbiamo vinto in tutti e sei i capoluoghi di Regione strappandone tre alla destra e con un dato che ci rende particolarmente felici con tre nuove sindache donne dove prima erano sei sindaci uomini. A Firenze Sara Funaro è la prima sindaca donna eletta col 60% al ballottaggio. A Bari abbiamo Vito Leccese che ha vinto col 70% nel ballottaggio nonostante la becera strumentalizzazione da parte delle destre e non solo. A Perugia Vittoria Ferdinandi ha riacceso Speranza e ci dà slancio anche verso un'importante partita regionale. A Potenza ha vinto Vincenzo Telesca, a Campobasso Maria Luisa Forte. A Vibo, a Vibo Valencia abbiamo vinto dopo 20 anni con Enzo Romeo. Il PD è il primo partito nei capoluoghi di Regione Salvo Potenza e in 19 capoluoghi su 29 tra le province. È secondo in 8. Quindi noi possiamo essere molto soddisfatti di un risultato che vede il nostro partito crescere ovunque. Siamo passati da 13 capoluoghi a 13 al centro-destra, a 17 a 10. Credo che questo sia un segnale molto significativo. Voglio fare quindi un grande in bocca al lupo e un grande ringraziamento a tutte le nostre candidate e candidati sia ai consigli comunali che le candidate e i candidati a sindaci. Perché davvero hanno dimostrato una grande sintonia con i sogni e con i bisogni delle proprie comunità. E colgo l'occasione per dedicare un abbraccio commosso di vicinanza alla famiglia e agli amici di Ermanno Zacchetti, nostro sindaco di Cernusco sul Naviglio, prematuramente scomparso ieri. Anche alle europee abbiamo visto che siamo il partito che è cresciuto di più, più di 5 punti percentuali in più rispetto alle politiche, 10 se guardiamo ai sondaggi del gennaio del 2023. Abbiamo aumentato anche i voti assoluti e dimezzato in un anno e mezzo la distanza con Giorgia Meloni e il suo partito. Il messaggio per loro è chiaro. Stiamo arrivando. Lo devono sapere. Con alcuni dati che sono particolarmente importanti. Siamo il primo partito al sud, il più votato tra i giovani e secondo i CSE anche tra le fasce meno abbienti. Abbiamo avuto un risultato estremamente significativo. La cui partecipazione però cala. È uno degli elementi su cui vi chiedo di mettere la nostra attenzione. Si rischia una marginalizzazione permanente delle fasce più deboli, delle fasce economicamente più fragili di questo Paese. Non lo possiamo accettare perché ne va della qualità della nostra democrazia. L'alternativa è più vicina oggi, è più credibile e il PD è il perno indiscusso dell'alternativa che dobbiamo costruire. Il voto delle forze di opposizione nell'Europa ha superato quello delle forze di governo. Speriamo che questo faccia riflettere davvero anche tutte le altre forze sulla responsabilità che abbiamo. Le elettrici e gli elettori hanno premiato il nostro impegno e vorrei ringraziare davvero ciascuno di voi perché questa inversione di rotta, questo tornare a crescere nel voto e nella società è il frutto di un lavoro di squadra e collettivo. È l'esito di un partito che invece che ripiegarsi su se stesso in discussioni ombelicali sta ricostruendo un profilo chiaro e riconoscibile con lo sforzo di tenerlo unito e di fare del suo pluralismo un valore aggiunto e mai un elemento di ambiguità. Un partito che si occupa dei problemi concreti delle persone ed è l'esito anche di una squadra di alto profilo come quella che abbiamo messo in campo nelle liste per le europee e vorrei ringraziare tutte e tutti i candidati, quelli che sono stati eletti, i 21 eletti al Parlamento europeo ma pure quelli che invece non sono stati eletti perché ci hanno messo anima e corpo anche loro. Siamo la più grande delegazione del gruppo socialdemocratico, gruppo senza il quale non ci può essere alcuna maggioranza dentro al Parlamento europeo. In questo senso abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi, quello di far fallire il disegno di una maggioranza delle destre popolari, conservatrici e nazionaliste. Useremo questo peso politico con responsabilità per far valere le priorità del Partito Socialista europeo e per far sentire la nostra voce come Partito Democratico per cambiare nella direzione dell'Europa che vogliamo. Spesso nel suo recente passato l'Unione è stata ostaggio degli egoismi, dell'austerità, del rigore ottuso e delle divisioni. Nell'ultima legislatura, grazie soprattutto allo sforzo della famiglia socialista, abbiamo visto alcuni segnali di svolta che non devono interrompersi, abbiamo visto la sospensione allora del patto di stabilità, il fondo SURE, il Green Deal e l'adozione del più grande piano di investimenti europei, il Next Generation EU. Dobbiamo lavorare perché questo cambio di paradigma non sia soltanto una parentesi, perché questa finestra di rilancio e di innovazione non si chiuda per tornare indietro come vorrebbero i conservatori e nazionalisti alleati di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, che stanno già cercando di annullare questi passi avanti. L'Unione Europea ha bisogno di un nuovo inizio e di rilanciare con grande coraggio e lungimiranza il disegno di integrazione verso l'Europa federale, di andare avanti sui diritti sociali, sulla sostenibilità ambientale, sul rinnovato protagonismo per promuovere la pace e la cooperazione internazionale. Noi lavoreremo con il nostro gruppo parlamentare e i partiti nostri alleati e seguiremo con grande attenzione e preoccupazione anche le mosse della Presidente del Consiglio, perché appare evidente che l'interesse dell'Italia e l'interesse della sua famiglia politica non coincidono affatto, anzi, sono in palese contraddizione. In questi giorni nel negoziato europeo abbiamo portato le nostre priorità. Noi vogliamo l'Europa degli investimenti comuni. Il Next Generation EU non può essere una parentesi di solidarietà e innovazione che si chiude sotto la spinta dei suoi alleati nazionalisti. È un po' difficile fare l'interesse nazionale se in Europa ti accompagni con chi girava con i cartelli, ve li ricordate, non un centesimo all'Italia. L'Italia ha bisogno di investimenti comuni europei e lo sa bene il nostro mondo produttivo e industriale, perché abbiamo una vocazione industriale, abbiamo il sapere e la creatività degli artigiani e delle maestranze, l'intelligenza delle mani e delle teste, ma da soli non abbiamo il margine fiscale che altri paesi hanno già messo in campo per creare nuove filiere strategiche, penso alle rinnovabili, ai sistemi di accumulo, alle batterie. Ecco, proprio per questo dobbiamo andare avanti con il Next Generation EU, perché è l'embrione di un grande piano industriale europeo in cui rilanciare la nostra manifattura guidando una conversione ecologica giusta e la trasformazione digitale, senza lasciare nessuno indietro e creando anche buone imprese a lavoro di qualità. Il Green Deal va portato avanti con coraggio, perché non è meno industria, è un tipo diverso di industria in cui l'Italia può fare da guida, come ha sempre fatto sull'economia circolare. E non è negando l'emergenza climatica che noi aiuteremo imprese, lavoratori e agricoltori, come quelli alluvionati che stanno, dopo più di un anno, aspettando ancora i ristori promessi al 100% da Giorgia Meloni che non sono arrivati. Li aiuteremo ottenendo tutti gli investimenti comuni europei che servono a prenderli per mano e accompagnarli passo per passo in tutti i cambiamenti che sono necessari per innovare i propri processi, le competenze, per ridurre gli impatti negativi sul pianeta. Abbiamo le idee chiare e abbiamo la coerenza di chi, diversamente dalla Presidente del Consiglio, non ha cambiato posizione. Noi vogliamo un'Europa più sociale e un'Europa del lavoro dignitoso. Abbiamo detto che vogliamo un'Europa degli investimenti comuni, certo, ma quella che non vogliamo più vedere, lo sapete, è l'Europa dei paradisi fiscali. È l'Europa in cui le differenze tra 27 sistemi fiscali permettono ad alcune multinazionali di pagare lo 0,005% di tasse quando lavoro e imprese sono tassati più del 40%. Dobbiamo avere l'ambizione per questo di cambiarla davvero questa Europa, di superare davvero anche il diritto di veto e l'unanimità. E per fare questo lo sapete, bisogna avere l'ambizione di riformare i trattati, ma non possiamo più tollerare che il diritto di veto blocchi avanzamenti necessari per dare risposte e contrastare le diseguaglianze. Non possiamo più tollerare, insomma, che non ci sia una democratizzazione dell'impianto europeo tanto più in vista dell'allargamento che tutti sosteniamo. È un'Europa poi che non deve e non può dimenticare la sua storia perché nasce, lo sapete, dalle cenere di due disastrose guerre causate dal nazionalismo e nasce come progetto per la pace e deve rimanere un progetto per la pace, mai diventare un'economia di guerra. Il governo non sta facendo abbastanza per ottenere un immediato cessate il fuoco a Gaza, per fermare il massacro di civili, per liberare gli ostaggi israeliani ancora nelle mani dei terroristi di Hamas e per fare ripartire il processo di pace, quello che oggi sembra più lontano verso la prospettiva dei due popoli e due Stati, ma che è necessario, che è l'unica prospettiva politica di soluzione di un conflitto che sta continuando a mettere vittime innocenti. Ma questo significa, come abbiamo affermato nella mozione che abbiamo votato ieri alla Camera, che bisogna riconoscere anche ai palestinesi il pieno diritto a uno Stato in cui vivere in pace e in sicurezza, come agli israeliani. E mentre sosteniamo il popolo ucraino ingiustamente invaso dalla Russia di Putin, anche su questo l'Unione deve fare più sforzo politico e diplomatico per isolare la Russia e per far arrivare a cessazione anche quel conflitto, per arrivare ad una pace giusta e sicura per gli ucraini. Vogliamo un'Europa solidale, poi, che condivide tra tutti gli Stati la responsabilità sull'accoglienza. E contrasteremo, questo sta scritto nel manifesto del Partito Socialista Europeo, contrasteremo ogni forma di esternalizzazione delle frontiere europee fatte sulla pelle dei più fragili. Lo dico perché mentre Giorgia Meloni fa cinici accordi con l'Albania sulla pelle dei più fragili, noi continueremo ad essere l'Albania dei suoi alleati europei che non vogliono accogliere chi arriva in Italia. Diciamole queste cose con grande forza. Abbiamo detto che siamo la delegazione più grande del PSE, siamo il secondo partito del Paese e la maggiore forza d'opposizione, ma soprattutto rappresentiamo oggi la speranza e la prospettiva di un'alternativa di governo. L'asse portante per costruire quella proposta di cambiamento che dovrà candidarsi a guidare l'Italia. Continueremo a lavorare a questo obiettivo con umiltà e con determinazioni. Continueremo, quindi, a essere testardamente unitari. Non abbiamo mai posto veti, ma non intendiamo nemmeno più subirne, perché il tempo dei veti è finito. È finito. E l'esito delle elezioni lo dice chiaro. Il metodo, come abbiamo sempre fatto, è quello non di partire da astratte formule politiciste, ma da temi concreti, cercando convergenze e condivisione sul merito delle proposte. Non si tratta quindi di erigere insieme un episodico muro contro questa destra reazionaria e nazionalista, la peggiore dalla nascita della Repubblica. Non si tratta, come in Francia, di una convergenza dettata dalla contingenza e circoscritta al secondo turno. L'abbiamo detto durante la prima splendida manifestazione unitaria del 18 giugno per la Costituzione e per l'unità nazionale, contro il premierato e contro l'autonomia differenziata. L'abbiamo detto e lo ribadisco qui. Il nostro lavoro di tessitura dell'alternativa va fatto sui per molto prima che sui contro. La giustizia sociale, il lavoro dignitoso, un piano industriale per guidare la conversione ecologica, la difesa e il rilancio della sanità pubblica e della scuola pubblica, i diritti di tutte e di tutti senza discriminazioni. Perché sono così convinta che su tutti questi temi noi possiamo unire le forze e mettere a valore le nostre differenze trovando ampie convergenze con le altre forze d'opposizione. Ma è chiaro perché? Perché l'abbiamo appena fatto. L'abbiamo fatto in migliaia di comuni e abbiamo vinto. E allora è questo che ci dà conforto nella strada da proseguire. Ci interessa costruire un'agenda alternativa, una piattaforma condivisa sui contenuti perché l'orizzonte deve essere quello di arrivare poi a governare insieme il Paese. Non appena riusciremo a mandare a casa questo Governo. Noi vogliamo metterci al servizio di questa prospettiva senza velleità egemoniche e senza chiedere a Biure per coltivare i semi di una coalizione plurale ma in grado di fare sintesi per una nuova visione del futuro dell'Italia. È il tempo dell'alternativa e alle altre forze di opposizione dico vediamoci più spesso, l'abbiamo fatto anche stamattina e soprattutto facciamo lavorare insieme la nostra gente, mischiamoci attorno a battaglie comuni che parlano di futuro ma affondano le radici profondamente nella nostra Costituzione. Dopo questi risultati noi come Partito Democratico abbiamo il dovere di non fermarci. Io vi chiedo questo, so che è stata una campagna faticosa perché vi ho visti tutti in ogni territorio spendervi con grande determinazione. Ma vi chiedo di battere il ferro finché è caldo, vi chiedo di continuare a girare sui territori, vi chiedo di non fermarci appunto, di continuare a stare tra le persone che finalmente ci riconoscono per le battaglie che stiamo facendo, che ci fermano per strada, per incoraggiarci sulla sanità pubblica ad andare avanti, sul salario minimo, a continuare. E allora esattamente come un anno fa vi dico prepariamoci perché parte una nuova estate militante. Chiedo a tutti i nostri dirigenti, segretari, parlamentari, amministratori e militanti di restare mobilitati per alcuni obiettivi da portare nel Paese nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Primo obiettivo, raccoglieremo le firme per il referendum che blocca l'autonomia differenziata che spacca l'Italia. Lo faremo accanto all'Emilia Romagna, alla Campania, alla Toscana, alla Puglia e alla Sardegna che stanno presentando anche loro i quesiti come noi abbiamo fatto stamattina insieme a una moltitudine di forze politiche e sociali, alle associazioni e ai movimenti, alle tante realtà e personalità del mondo del lavoro, della cultura e del terzo settore che si riconoscono in una battaglia giusta perché non accettiamo di vedere l'Italia spaccata in due da una sedicente patriota. L'ho detto in aula, facevano prima chiamarsi i brandelli d'Italia o fratelli di mezza Italia visto che la stanno spaccando in due per un cinico baratto con un accordo di potere sulla riforma costituzionale. La stanno dividendo e stanno aumentando le diseguaglianze territoriali che il sud e le aree interne del paese hanno già pagato troppo. Lo diciamo spesso, non c'è riscatto per l'Italia se non c'è riscatto delle aree interne e del sud di questo paese. Questo è senz'altro un governo che ha colpito da molti punti di vista il sud, l'abbiamo visto perché hanno anche affossato quella che avevamo impostato come una politica di rilancio fatta di riduzione del costo del lavoro e contemporaneamente di una serie di massicci investimenti pubblici mirati a cominciare da quelli del PNRR. È una battaglia giusta perché non possiamo accettare che un bambino che nasce a Reggio Calabria abbia un'aspettativa di vita di cinque anni inferiore a un bambino che nasce a Bologna e sono convinta che sia una questione che sta a cuore alla stragran parte delle italiane e degli italiani. Dobbiamo raccontare bene che cosa si cela dietro questo nome tecnico. Si sancisce che ci sono cittadine e cittadini di serie A e di serie B a seconda di dove nascono, limitando l'accesso a servizi fondamentali come la sanità pubblica, come la scuola, come il trasporto pubblico locale. Ma è una battaglia, insisto, che interessa tutto il Paese, non soltanto il sud e le aree interne, perché anche il mondo produttivo al nord capisce benissimo l'assurdità di rischiare 20 politiche energetiche diverse quando dovremmo ridurre la frammentazione e lavorare per una politica comune europea sull'energia. Il paradosso è che tutto avviene mentre il Governo schiaffeggia da un anno e mezzo le autonomie locali, lo fa tagliando sui comuni, con altri 250 milioni di tagli che sono attesi, lo sapete, già li volevano fare prima delle elezioni, la nostra denuncia e protesta li ha solo fermati temporaneamente. Lo hanno fatto quando hanno scaricato sui comuni le responsabilità del Governo sull'accoglienza o quando l'hanno fatto cancellando il reddito di cittadinanza, come hanno fatto quando non hanno mandato un euro per un anno e mezzo ai comuni né sul trasporto pubblico locale né sul sociale e quindi mentre le persone si affollavano non trovavano nemmeno abbastanza assistenti sociali a rispondere in quei comuni. E mentre adottano, peraltro, un atteggiamento che ci tengo in modo particolare a denunciare da questa direzione, un atteggiamento vessatorio e punitivo verso le regioni che non governano, come stiamo vedendo farne il vergognoso sequestro dei fondi FSC verso la Campania e verso la Puglia, come se non fossero nelle istituzioni ma in un loro partito dove decidono a chi dare e a chi no, a seconda della simpatia politica. L'autonomia differenziata è oggetto di un cinico baratto, lo dicevo, con una pessima riforma costituzionale, il premierato, che non esiste in alcun paese del mondo e che indebolisce la democrazia perché indebolire il Parlamento non rafforza la democrazia, come non la rafforza, indebolire i poteri della figura che più di ogni altra in anni di navigazione difficile e di crisi della politica ha saputo garantire la credibilità internazionale e la stabilità di questo Paese. Per questo vi chiedo di dedicare alla figura del Presidente della Repubblica il più caloroso e rispettoso degli applausi. Dicevo, non è indebolendo il Parlamento né i poteri del Presidente della Repubblica che si rafforza la democrazia italiana perché la democrazia è una cosa più complessa rispetto alla libertà che ti lasciano un giorno ogni cinque anni di andare a votare ed acclamare un capo. La democrazia si declina nel potere per i cittadini e le cittadine tutti i giorni di quei cinque anni di ambire a incidere sulle scelte che fanno le persone che li rappresentano in Parlamento e così non potrà essere più con un Parlamento meno autonomo eletto a traino del capo di turno. Allora è chiaro che su questo noi dobbiamo essere consapevoli che siccome le riforme sono legate da questo cinico baratto se ne fermiamo una le fermiamo entrambe ed è per questo che io vi chiedo nonostante la normale stanchezza dopo la campagna elettorale di continuare a mobilitarvi di lavorare con tutti i nostri circoli sui territori per prepararci a raccogliere le firme sul referendum contro l'autonomia differenziata che abbiamo depositato stamattina e farlo in ogni iniziativa politica farlo in ogni festa dell'unità. Secondo punto di questa estate militante non vi stupirà accanto al referendum per l'autonomia nello stesso banchetto vi chiedo di mettere sempre anche una legge di civiltà che abbiamo presentato come legge di iniziativa popolare che è quella sul salario minimo. Dobbiamo insistere non possiamo arrenderci in ogni banchetto teniamole insieme. La contrarietà di Giorgia Meloni sul salario minimo è incomprensibile. Chi sta pagando la grande inflazione degli ultimi anni sono soprattutto lavoratrici e lavoratori. Sono quei 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano. Mi avete sentito raccontare un po' di quelle testimonianze che ho raccolto attraverso le 123 tappe fatte nel paese per le elezioni. Quella di una lavoratrice all'autogrill che fa tre lavori per 62 ore la settimana e guadagna come suo figlio che fa uno stage in Germania. Quella di un vigilante che guadagnava 4 euro e 60 allora e non riusciva a prendersi cura della mamma malata di Alzheimer. In tutti i paesi dove il salario minimo esiste e in Europa sono 22 non solo non ha prodotto cali di occupazione ma ha avuto un ruolo cruciale nel difendere i salari dall'inflazione. Basta guardare i dati. Ma non solo. Ha avuto anche l'effetto importante di ridurre il divario salariale di genere per colpa delle quale le donne ancora ricevono salari più bassi anche a parità di mansioni coi colleghi uomini. Dopo che hanno affossato la nostra proposta in Parlamento mettendola su un binario morto noi vogliamo riportare questa legge in Parlamento con la forza di migliaia e migliaia di firme delle cittadine e cittadini. Quindi vi chiedo appunto di portare avanti insieme queste due raccolte firme. Terzo punto. Hanno affossato anche la nostra legge sulla sanità pubblica che chiede più risorse e di riportare la spesa sanitaria nazionale al 7,5 per cento del PIL che è la media europea. Non stavamo chiedendo la luna. Stavamo chiedendo di farlo da qui al 2028 con programmi mirati individuando insieme le coperture. Ma naturalmente hanno rifiutato di farlo perché non gli interessa salvare la sanità pubblica. La stanno consapevolmente smantellando. Chiedevamo anche lo sblocco delle assunzioni in quella legge e noi non dobbiamo arretrare di un millimetro nemmeno su questo. Riproporremo quegli stessi emendamenti in ogni occasione utile sia alla Camera che al Senato. Anzitutto chiederemo poi ai nostri consiglieri regionali di andare avanti perché in quattro regioni come sapete era già stata approvata una legge regionale anche in regioni a maggioranza di centrodestra che chiedeva esattamente la stessa cosa. Io chiedo ai consiglieri regionali delle altre regioni dove o ancora non si è presentata o si è presentata ma non è ancora stata calendarizzata di farla calendarizzare e disegnarvi anche come si comportano le forze del centrodestra perché evidentemente si devono mettere d'accordo tra di loro se in Piemonte è passata. Allora io vi chiedo su questo di continuare a insistere ma nella consapevolezza che non ci basta. Non ci basta. Vi chiedo di promuovere visite nei luoghi di cura con i nostri eletti anche insieme alle altre opposizioni per proseguire il nostro viaggio sulla sanità italiana per tenere i riflettori puntati su questo tema. So che in alcune regioni l'avete già fatto ma cominceremo pure a scrivere nell'ascolto di esperti e operatori della sanità pubblica una riforma più compiuta per migliorarla per portarla nel futuro. Il nostro paese ha bisogno di grandi investimenti sulla prevenzione sulla riabilitazione sulla medicina del territorio sull'innovazione tecnologica e serve una strategia unitaria una visione di insieme non solo alla sanità dei poli ospedalieri ma quella di territorio quella che arriva nelle aree interne e nelle aree montane quella che arriva nei quartieri e nelle periferie quella delle case degli ospedali di comunità ma anche dei servizi di assistenza domiciliare quella che arriva a dare risposta a quello che non può essere un tabù in questo paese perché ce lo chiedono le ragazze e ragazzi nelle scuole nelle università un grande investimento sulla salute mentale e guardate che sui disturbi alimentari non è possibile che la risposta dipenda da quante strutture ci sono nella regione dove sei nato dove vivi non è possibile è un'ingiustizia. Allora io vi dico non fermiamoci alla richiesta di più risorse e di sbloccare le assunzioni che è l'emergenza per abbattere le liste d'attesa che continuano ad allungarsi e questo sapete cosa vuol dire che chi ha i soldi da solo riesce a saltare la lista d'attesa andando dal privato chi non ce li ha sta rinunciando a curarsi e stiamo parlando di 4 milioni di italiani è questo che la destra vuole non dobbiamo essere ingenui c'è un disegno chiaro non lo fanno per sciatteria vogliono che vada a finire così per poi magari dirci che funziona meglio funziona meglio senza la sanità pubblica funziona meglio il privato magari il sistema di assicurazioni private ecco dobbiamo presidiare e difendere l'universalismo del nostro servizio sanitario nazionale nessuno si salva da solo noi dobbiamo riannodare i fili del solidarismo e i legami comunitari prendere coscienza di quanto il presente e il futuro debba aderire sempre di più ad un approccio che viene detto one health cioè di una salute vista in modo complessivo la salute degli esseri umani come una cosa sola insieme a quella del pianeta e anche degli animali con cui condividiamo quel pianeta chiedo quindi a tutti i territori di continuare come avete fatto in questi mesi a fare iniziative politiche sulla sanità pubblica in tutto il paese quarto punto le aree interne guardate che noi abbiamo bisogno di sviluppare una proposta che parli all'anima profonda di questo paese lì andremo a vedere anche come sono i dati di voto e i dati da stensionismo perché c'è un pezzo di paese che si sente tagliato fuori dai luoghi dove si decide che è lontano mille miglia da questa discussione e da questo luogo dobbiamo esserne consapevoli come vi dicevo prima dobbiamo andare noi verso non aspettarci che siano loro a venire a interessarsi sentiamo questo bisogno di mettere la questione delle aree interne al centro del dibattito politico del paese e sapete cosa si fa e cosa si impara a fare quando si amministra si impara che per scontrastare lo spopolamento delle aree interne c'è solo un modo rendere più comoda la vita quindi fare arrivare i servizi questo vuol dire sanità vuol dire trasporti vuol dire scuola vuol dire asili nido come alcune delle nostre regioni stanno già facendo con l'aiuto dei fondi europei per rendere gratuito l'accesso ai nidi in montagna ecco dobbiamo tenere presente che ci sono delle fratture ma non esistono luoghi marginali esistono solo luoghi marginalizzati da politiche sbagliate che dobbiamo cambiare questo è un altro modo per declinare il contrasto all'autonomia differenziata in un modo che interessa tanto anche al nord tanto anche alle aree del nostro appennino vedo baruffi lì seduto allora teniamo insieme questa visione del futuro del paese i borghi e le piccole comunità sono realtà che rappresentano un pezzo significativo dell'identità delle tradizioni anche del nostro paesaggio eppure vulnerabili minacciate appunto dalla mancanza di servizi e quindi di prospettiva non è la stessa cosa aprire un'attività economica in un paese di montagna o farlo in un centro di una grande città e se siamo sottoposti a esattamente le stesse regole chiaramente questo le metterà in grande difficoltà e scivoleranno sempre più verso valle ma il costo di quello spopolamento non illudiamoci perché lo paghiamo anche a valle lo paghiamo anche con i rischi idrogeologici che sono aumentati in quelle terre quindi vi chiedo appunto e vi annuncio che vogliamo fare anche un lavoro specifico di attraversamento dei luoghi delle aree interne dei luoghi del non voto per portare lì la nostra attenzione con grande umiltà e con grande ascolto punto 5 ed è l'ultimo il tesseramento guardate per quanto vi è possibile lo dico ai nostri segretari di circolo che ringrazio per lo straordinario sforzo che hanno fatto organizzando la campagna elettorale però laddove facciamo un banchetto per raccogliere le firme sull'autonomia differenziata e sul salario minimo laddove è possibile state accanto anche con un banchetto che invita le persone a venire a darci una mano in questo partito ce ne abbiamo bisogno abbiamo una responsabilità in più quest'anno sul tesseramento che si può fare sia nei circoli spero a questi banchetti e naturalmente anche online sul sito partito democratico punto it abbiamo bisogno che veniate a darci una mano ce ne è bisogno più che mai attorno a una visione concreta del futuro però vi dicevo appunto oltre a quello sforzo naturalmente noi abbiamo bisogno abbiamo una responsabilità in più perché quest'anno la tessera l'avete ricevuta l'avete ritirata a una insomma a un'immagine che ci sta molto a cuore che è una fotografia sono gli occhi di enrico berlinguer che ricordiamo a 40 anni dalla sua morte l'abbiamo voluto ricordare anche il 7 giugno nel giorno di quell'ultimo comizio a padova proprio stando lì non potevamo stare da nessun'altra parte in quel giorno ora con questo risultato che ci rafforza è tempo di avviare una riflessione anche sulla nostra organizzazione prendiamoci questi mesi estivi per riflettere su quanto può servire per rendere questo partito sempre più aperto sempre più accogliente lavorare su quello che ha funzionato ma pure e soprattutto su quello che non ha funzionato attenzione non dobbiamo avere paura di guardarci dentro di fare anche autocritica di capire dove dobbiamo cambiare anche rispetto ai nostri modelli organizzativi ecco tutti questi temi per noi rapporti rappresentano un dovere e una sfida grande voglio dirvi che in quel dato che vi ho raccontato prima dell'astensionismo a proposito di rendere il nostro partito più aperto e più accogliente c'è un dato che non vorrei che fosse forse un po passato in secondo piano non solo le elezioni dell'8 e il 9 giugno passeranno alla storia per essere state le prime nazionali in cui non si è recata ai seggi neppure la metà degli aventi diritto ma c'è un dato ancora peggiore sull'astensionismo delle donne secondo alcuni dati addirittura sarebbe arrivato al 59 per cento cioè sei donne su dieci che non sono andate a votare non è un bel segnale questo è un segnale su cui vi chiedo di lavorare tanto sono ancora troppe le discriminazioni di genere che toccano tutti gli ambiti ogni aspetto di vita delle donne e questo mina la loro partecipazione alla vita pubblica quello sociale quello educativo quello lavorativo quello economico eppure quello relazionale discriminazioni che sfociano molto spesso non dimentichiamolo in violenza e in sopraffazione vorrei che dedicassimo davvero una riflessione profonda al fatto che di nuovo ieri vi è stato in questa città un terribile femminicidio di manuela petrangeli voglio leggere insieme a lei altri nomi rosa d'ascenso maria rus delia zarniscu ester palmieri analisa rizzo nicoletta zomparelli rene amato maria battista ferreira sarah buratin aneta catarina danelsis lì su e mei suai lì cristiane angelina soares de susa oriane natalie lesne sofia stefani saida ammuda già da zanola anna sviridenco ignazia tumatis e manuela petrangeli sono già stati venti i femminicidi di quest'anno allora cerchiamo di fare in modo di non dovere ogni volta vedere accendersi i riflettori soltanto quando accade un'altra un altro terribile femminicidio come quello di ieri no perché ci siamo rivolti più volte anche a questo governo per offrire piena collaborazione sul tema della violenza di genere l'abbiamo dimostrato concretamente approvando insieme al senato delle norme importanti sul lato della repressione che evidentemente ancora non basta però attenzione manca completamente la parte della prevenzione e io non so cos'altro dobbiamo aspettare e quanti altri nomi dobbiamo leggere prima di metterci davvero mano era stato approvato un nostro ordine del giorno che chiedeva di mettere finalmente le risorse sulla formazione specifica degli operatori nelle forze dell'ordine nelle autorità giudiziarie nelle pubbliche amministrazioni affinché non accada mai più che una donna che va a denunciare non venga presa sul serio abbiamo chiesto di discutere l'unico modo per fare vera prevenzione e agire prima che le differenze diventino diseguaglianze prima che si radichi il pregiudizio sessista di un diritto al possesso sul corpo il tempo delle donne che non esiste che è un pensiero criminale e così va declinato vuol dire fare educazione alle differenze al rispetto all'affettività in tutti i cicli scolastici allora io chiedo che su questo davvero noi ogni giorno torniamo nelle nostre iniziative nei nostri pensieri a partire dalla festa nazionale che andremo a fare quest'anno soprattutto in un momento in cui soffia un vento reazionario i diritti delle donne sono sotto attacco in tutto il mondo in tutta europa non solo nei regimi dittatoriali anche nelle democrazie troviamo lo stesso volto scurantista dei repubblicani di trump dell'ungheria di orban ecco e lo vediamo purtroppo anche da queste parti guardate noi dobbiamo dimostrare anche su questo quanto siamo radicalmente alternativi a giorgia meloni e il suo governo che pur essendo la prima donna a palazzo chigi guida un governo che ogni giorno fa scelte contro le donne lo fa tagliando nelle pensioni lo fa sapendo che quando tagli sul sociale tagli sulla sanità pubblica in una società patriarcale come la nostra è sulle famiglie che ricade il carico di cura ma nelle famiglie soprattutto sulle spalle delle donne e questo le tiene a freno nel lavoro e nell'impresa e non solo è ingiusto dal punto di vista della parità ma è anche anti economico perché vuol dire opportunità economiche mancate lo dice la banca d'italia allora rispetto a questo credo che abbiamo un compito importante evidentemente a giorgia meloni non interessa lei è arrivata non le interessa mettere in discussione il sistema ma il soffitto di cristallo non lo rompi da sola con un unico punto di pressione se tutte le altre donne del paese non arrivano neanche a vederlo quel soffitto tanto sono schiacciate da una cappa di discriminazione del g7 in italia rimarrà soprattutto il paradosso dell'unica leader donna che limita i diritti di tutte le altre donne cancellando la parola aborto dalla dichiarazione finale e non ha bisogno di toccare la 194 come continua a dire non ha bisogno di farlo perché nelle regioni dove governa la destra stanno già impedendo l'accesso alla pillola abortiva nei consultori come da linea guida del ministero della salute dal 2020 e soprattutto perché sono loro e lei che ha deciso di far entrare gli anti abortisti nei consultori per fare pressioni violente sulle donne e le ragazze che decidono già difficilmente di accedere a un'interruzione volontaria di gravidanza e quando parliamo di diritti e i messi a rischio purtroppo anche in quella dichiarazione del g7 vorrei ricordare che è ancora in corso però si è concluso diciamo il primo pride month io vi chiedo di continuare a partecipare a quelle manifestazioni di orgoglio di lotta per l'eguaglianza e la libertà di tutte le persone che guardano a tenere insieme i diritti civili coi diritti sociali perché le persone che vengono discriminate per quello che sono sono anche persone che lavorano che fanno impresa e che pagano le tasse solo che proprio perché discriminate per ciò che sono fanno più fatica a trovare lavoro ad avviare un'impresa e ad accedere ai servizi che pagano con quelle tasse teniamo insieme queste battaglie poi devo dire che per quanto riguarda ho visto molte reazioni anche diciamo una serie di commenti omofobi sui social voglio dire che a me mi troveranno sempre dalla parte di chi lotta per la sua uguaglianza per la sua libertà come dice la nostra costituzione al suo articolo 3 lì sono sempre stata sempre mi troveranno e credo che lì ci debbano trovare come partito che difende l'eguaglianza in italia e in tutta europa avremo davanti e vado verso la conclusione le regionali sfide impegnative avremo l'emilia romagna e avremo anche l'umbria ma presto dovremo farlo lo voglio dire anche per la liguria perché toti si deve dimettere è assurdo che ancora non si sia dimesso non può tenere bloccato un'intera regione e non è accettabile che stia che stiamo ancora aspettando che la presidente del consiglio firmi quello che è un atto dovuto come la sospensione non ci sono precedenti nella storia di attese come così lunghe su un atto dovuto così come devo dire da ieri alla seconda richiesta di rinvio a giudizio per farso in bilancio continuiamo ad attendere che meloni chieda un passo indietro a una sua ministra che è accusata pure di truffa aggravata ai danni dello stato ora vorrei citare per concludere un'altra battaglia sulla quale non dobbiamo arretrare che è quella contro lo sfruttamento del caporalato perché satnam singh non è morto è stato ucciso è stato ucciso dallo sfruttamento dal caporalato e non è un caso isolato purtroppo non è un'eccezione c'è un sistema di sfruttamento di caporalato che riguarda anche come funziona la filiera bisogna dire la verità perché dai ministri abbiamo sentito delle parole veramente preoccupanti vogliamo giustizia per satnam singh perché è stato ucciso dai delinquenti per cui lavorava e che l'hanno mollato senza un braccio mangiato da un macchinario davanti a casa anziché portarlo in ospedale salvarlo vogliamo giustizia per satnam certo ma dobbiamo anche porci la questione come partito che sta nelle istituzioni in parlamento di cosa possiamo e dobbiamo fare per evitare che questo sfruttamento continui abbiamo parlato prima della nostra battaglia sul salario minimo ma vorrei aggiungere che dobbiamo insistere a chiedere più risorse sulla legge 199 la legge contro il caporalato perché altrimenti rischia di non essere attuata fino in fondo bisogna lavorare sui controlli naturalmente e questo interessa anche a quelle tante imprese oneste che non possono stare alla concorrenza sleale di chi fa la cresta sulla pelle delle persone più fragili penso a quell'agricoltore che mi ha raccontato che vende a 75 centesimi la sua cassa di un chilo di pomodori però produrla gli costa un euro quale imprese sostenibile se devo vendere a un prezzo che è più basso del costo di produzione nessuna come gliela spieghi che deve stare alla concorrenza di chi lavora nelle condizioni in cui lavorava sat nancy nell'agropontino e guardate che non è una questione solo dell'agropontino non è una questione che riguarda se lo ricordava alla festa dell'unità di roma marco mizzolo che è stato dentro a quella comunità non riguarda solo la comunità sic nell'agropontino è un problema che c'è in tanta parte del paese che dobbiamo affrontare con grande coraggio per questo dico che dobbiamo riprendere la proposta su cui avevano lavorato il nostro tommaso nannicini e sandro ruotolo proprio insieme a marco mizzolo per creare sistemi di protezione per chi denuncia lo sfruttamento perché non nascondiamoci la verità se non hai documenti ti fai 400 domande prima di andare a denunciare perché pensi di mettere a rischio anche te stesso ed è questo che mi porta a dire che nei prossimi giorni grazie al lavoro di francesco maiorino graziano del rio e degli altri nostri parlamentari che stanno dando una mano presenteremo finalmente una riforma per abolire e riscrivere la bossi fini perché è una legge che crea solo irregolarità se non prevedi vie legali e sicure per l'ingresso regolari e regolate per dare un governo al fenomeno ma è chiaro che quella legge produce solo irregolarità e la irregolarità produce ricattabilità che attenzione produce un danno di sfruttamento del lavoro ma tira verso il basso la condizione materiale di tutti i lavoratori e le lavoratrici con il dumping sociale e con il dumping salariale quindi è una battaglia su cui dobbiamo andare avanti perché io lo dico non sopporto più l'ipocrisia di una destra che se la prende sempre con i migranti irregolari e mai con i padroni che li impiegano irregolarmente nei campi e nelle aziende è troppo facile così ci aspetta quindi un grande lavoro di mobilitazione e militanza non ci sfugge quanto sia alta la posta in gioco e quanto significativo sia il livello di questa sfida e non ci sfugge la gravità e complessità di un passaggio della storia della repubblica dove l'offensiva per smantellare la repubblica parlamentare si inserisce in un disegno e in un clima un approccio di questa destra che in forme più o meno esplicite ma veramente riporta dei metodi che pensavamo lasciati al passato più buio di questo paese non dimentichiamoci che abbiamo vissuto in parlamento mentre discutevamo queste riforme un clima crescente di violenza verbale e fisica quando hanno intimato a chiara braga di stare zitta quando hanno fatto una vera e propria aggressione squadrista ai danni di un deputato donno abbiamo visto correre le persone partire dall'alto con il pugno già alzato ma voglio dire ma ci rendiamo conto di dove stiamo finendo ecco davanti a tutto questo abbiamo abbiamo anche ascoltato il sottosegretario scusate il vice segretario della lega spiegarci che è peggio cantare bella ciao che non fare in aula per tre volte il simbolo della decima mass vi vorrei ricordare che nessuno di noi sarebbe seduto in quell'aula se non ci fosse stata bella ciao e la lotta di liberazione dei partigiani delle staffette degli alleati dovrebbero essere le basi comuni in cui tutte e tutti ci riconosciamo invece vediamo un sistema in cui si sta cercando di attaccare ogni giorno la magistratura la libertà di stampa per non parlare di quello che sta accadendo in rai dove sanzionano giornaliste libere che si permettono di denunciare una imposizione ingiusta e la censura di un monologo mentre assumono amici e parenti degli amici allora anche su questo noi dobbiamo continuare a insistere che serva una riforma come chiede il media freedom act che renda finalmente libero il sistema del servizio pubblico dai partiti e dalla politica bisogna riscriverla questa riforma ci sono delle proposte che naturalmente sono state già depositate proviamo a metterle insieme e a metterle anche in comune con le altre forze di opposizione dicevo che non ci sorprende insomma questo considerando il retroterra politico ideologico di questa destra quello che purtroppo abbiamo visto anche emergere dalla inchiesta di fanpage su cui io trovo del tutto insufficienti le parole della presidente del consiglio lei dovrebbe ringraziare fanpage e utilizzare quelle immagini per cacciare quelle persone tutte dal suo partito non solo un vertice che paga il prezzo per tutte 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 quante le altre no perché mi viene il dubbio appunto che che non ci sia proprio la forza nel coraggio di recidere un cordone con la propria storia di provenienza o di non pensare fino in fondo che sia sbagliato perché quando invece che commentare il merito di quell'inchiesta cogli l'occasione per l'ennesimo attacco alla libertà di stampa pure questo molto grave è come se stessi dicendo che avresti preferito che non venisse fuori e io invece penso che oltre alla libertà di professione di quei giornalisti si sta attaccando in questo modo anche il diritto all'informazione delle cittadine e i cittadini verso cui anzitutto i partiti e soprattutto chi governa deve garantire la massima trasparenza dicevo e chiudo ci attendo un grande lavoro davanti a noi e in questa nuova estate militante naturalmente ci troveremo al culmine con la festa nazionale e ho il piacere di annunciarvi che quest'anno la festa nazionale si terrà dal 23 di agosto all'otto settembre e abbiamo scelto di farla a reggio emilia colgo l'occasione per fare gli auguri al nuovo sindaco e alla giunta le feste a campo galliano chiudo dicendo che il nostro partito c'è è in salute sta crescendo deve continuare a crescere anche allargare il suo consenso la nostra comunità è forte vitale rappresenta davvero il perno dell'alternativa che ci impegneremo a costruire guardate noi dobbiamo misurarci con questa sfida fedeli ai valori di sempre a cominciare dai principi di solidarietà uguaglianza e libertà ma aperti alle nuove domande alle nuove angosce che attraversano la nostra società è un cammino impegnativo dunque complesso per molti aspetti inedito ma essenziale per preparare il futuro di questo paese una sfida che possiamo vincere soltanto se lo faremo insieme come abbiamo fatto questa campagna elettorale guardate io sono convinta che una parte della nostra forza è venuta dal fatto che siamo stati uniti e compatti verso lo stesso obiettivo così dobbiamo continuare ad essere così un cammino dicevo che ci rende pronti spero per una nuova estate militante perché con le elezioni abbiamo visto che si è finalmente riaccesa una speranza che guarda noi ma una speranza ancora non basta perché come ci insegna a Tina Anselmi la politica è organizzare la speranza quindi diamoci da fare grazie